In merito alla questione scuola e sulla mancata riapertura in Campania per le disposizioni della regione e dei vari sindaci entra in campo anche il CODACONS. Il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei consumatori ha infatti inoltrato una diffida al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e cinque sindaci dei capoluoghi di provincia. L'avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale, ha infatti dichiarato il DPCM del 3 dicembre è chiaro, si sarebbero dovute riaprire le scuole fino alla terza media dal 9 dicembre, mentre dal 7 gennaio dovranno essere le secondarie di secondo grado ad aprire mantenendo una piccola percentuale in didattica a distanza. Nel caso in cui le scuole non dovessero riaprire, fa sapere il CODACONS, si adirà l'autorità giudiziaria competente unitamente a tutti coloro che già numerosissimi hanno risposto ai numerosi appelli. Questa è una battaglia di civiltà, siamo l'unica regione d'Europa, continua Marchetti, a non aver mandato i propri figli a scuola, tra l'altro una regione, che è una povertà educativa così alta da raggiungere livelli allarmanti. Ma la cosa ancora più grave è che i nostri ragazzi stanno subendo per decisioni sbagliate, un danno enorme alla loro formazione, forse incolmabile nei confronti di studenti e le altre realtà regionali. L'associazione ha invitato quindi a scrivere all'indirizzo codacons.campania.gmail.com per partecipare all'eventuale ricorso al TAR, lì dove ce ne fosse bisogno, ma soprattutto partecipare anche ad azioni risarcitorie specifiche o collettive. Insomma, come era preventivabile, le scelte adottate hanno finito inevitabilmente per scontentare qualcuno ed alzare un polverone, attraverso il quale è davvero difficile guardare oltre. Tranno dunque settimane difficili in attesa di decisioni in materia scolastica che riescano ad accontentare le diverse parti in causa.